Con l'arrivo della primavera la città si riempie di verde e per la sesta edizione della manifestazione ideata da Vincenzo Migali nelle aiuole di piazza Olivella Montesanto è stato piantumato un nuovo albero di ulivo. Si intitola Benvenuta Primavera Bentornato Ulivo ed è diventato un appuntamento atteso da cittadini e abitanti del quartiere che hanno a cuore la cura dell'ambiente. Il 21 marzo attendono questa data per questa bella festa di primavera dove per rimanere in tema con la toponomastica usiamo piantare un albero di ulivo per rispettare il toponimo. Oggi è il quindicesimo perché in qualche edizione siamo riusciti a piantare addirittura più di uno. Lo spirito con cui nasce è quello di promuovere la riqualificazione di tutti gli spazi verdi all'interno anche della città, all'interno anche di quartieri storici come questi. Quindi siamo molto contenti con la partecipazione. Noi pensiamo che anche sul tema del verde la partecipazione democratica, la cittadinanza attiva, siano fondamentali per sistemare, proteggere e tutelare il verde nella nostra città. Situata a ridosso della stazione della linea 2 della metropolitana, la piazza prende il nome da un grande oliveto del XVI secolo. La cerimonia è stata accompagnata dalla fanfara dei carabinieri ed ha coinvolto gli studenti delle scuole del distritto. Questa volta è l'ultima edizione perché non c'è più spazio per piantare nuovi olivi. La partecipazione degli studenti delle scuole del territorio deve essere sempre maggiore per cercare di sensibilizzare al rispetto di quel poco di verde che abbiamo che va comunque difeso a più non posso. Questa è un'edizione speciale perché ho inteso dedicare questa edizione alla memoria del professor Lamberti che da noto ambientalista ha sempre fatto tanto per il verde e per la scuola.